Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale, l'ultimo provvedimento della struttura commissariale, quello sui pronto soccorso pediatrici, si inserisce in un quadro più ampio di decongestione del sistema sanitario regionale e di riduzione dei tempi di attesa. Si conferma la sinergia tra le istituzioni e gli attori che governano la sanità molisana, facciamo il appunto nel servizio di Pasquale Di Bello. Quello sui pronto soccorso pediatrici è solo l'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti adottati dalla struttura commissariale nel quadro di un più generale e organico processo di ristrutturazione del sistema sanitario regionale. Tre sono le direttrici percorse da Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo con la fattiva collaborazione della Direzione Generale della Salute della Regione Molise, guidata dall'Olita Gallo e la condivisione del percorso insieme al Presidente della Regione Francesco Roberti. De congestione del sistema, riduzione delle liste e dei tempi di attesa e potenziamento della medicina territoriale. Con una parola difficile da pronunciare, deospedalizzazione, ma facilissima da capire, viene descritto l'obiettivo di drenare i ricoveri riducendo questi ultimi solo ai casi acuti oppure a quelli legati alle malattie tempo dipendenti e lasciare invece fuori dagli ospedali e sul territorio tutto il resto, dalle visite specialistiche alla riabilitazione alla lungodegenza. Meno ospedale e più prossimità. Lo stesso provvedimento che garantisce la presenza dei pediatri di libera scelta nei giorni festivi e prefestivi è un atto che prevede una logistica estranea agli ospedali e agli stessi pronto soccorso di Campobasso, Isernia, Termoli e Agnone. Sono previsti infatti appositi locali atti a garantire il servizio. Appare quindi evidente che il Governo della Sanità regionale ha introdotto una benefica inversione di tendenza che agisce non solo sul quadro economico ma anche su quello qualitativo dell'offerta sanitaria. L'accordo con i pediatri di libera scelta copre l'arco di un anno ma sarà possibile rinnovarlo all'esito di questo primo esperimento. Sempre restando alla sanità si attendono da Roma le valutazioni dei Ministeri di Economia e Salute del programma operativo sanitario 2023-2025 elaborato dai commissari Bonamico e Di Giacomo. E sul progetto di offrire a bambini e ragazzi assistenza pediatrica nei giorni festivi e prefestivi interviene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani per il quale finalmente è stato compiuto un passo nella direzione giusta da anni. Ricorda mi batto in consiglio regionale su questo argomento ma a gennaio scorso una mozione con la quale chiedevo proprio di riprendere il progetto sperimentale che era già stato attivato per alcuni mesi del 2018 fu bocciata dalla maggioranza di centrodestra. Quello che conta ad ogni modo, afferma ancora l'esponente dell'opposizione, è che le richieste di tanti cittadini trovino una risposta concreta. Primiani infine auspica che il servizio, ora previsto per 12 mesi, diventi definitivo. Nella sede elettorale di Forza Italia a Campobasso, conferenza stampa di Fulvio Martuscello, candidato alle europee con il partito e già capo delegazione a Bruxelles, storico rappresentante azzurro. Ha partecipato all'incontro anche il presidente della regione Francesco Roberti durante la conferenza, pure la telefonata di Tajani, che è il presidente di Forza Italia e candidato alle europee. Sentiamo. Fulvio Martuscello, già capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, si è ricandidato con gli azzurri in seno al Partito Popolare europeo. Nella sede elettorale di Forza Italia a Campobasso ha illustrato il suo impegno a Bruxelles nella circoscrizione sud, toccando i punti salienti del programma. Ha introdurro il coordinatore provinciale di Forza Italia, Orazio Civetta, e il presidente della regione Francesco Roberti. Difesa dell'Europa, difesa soprattutto del nostro paese all'interno dell'Europa. Noi siamo l'unico partito che sarà sicuramente in maggioranza nella prossima legislatura europea, perché aderiamo al Partito Popolare europeo, che potrà essere da fianco a famiglie e imprese quelli che difendono gli agricoltori. L'Europa passa per la vita di ognuno di noi molto più spesso di quanto noi immaginiamo e quindi bisogna essere consapevoli che le grandi decisioni vengono prese lì. Gli agricoltori non è che vengono a protestare a Campobasso o a Pescara, vanno a Bruxelles, perché lì si prendono le decisioni. Allora votare Forza Italia significa essere dalla parte di chi governerà l'Europa. Durante la conferenza stampa anche la telefonata della presidente di Forza Italia è candidato all'europeo Antonio Tajani. Avere rappresentanti per il sud a Bruxelles, ha detto Martuscello, è fondamentale per sfruttare risorse e fondi. L'Europa dà le risorse e insieme con il Molise dobbiamo essere capaci di saperle spendere, di saperle movimentare e ovvio che saremo a fianco al presidente Roberti e a tutti gli assurri regionali per consentire al Molise di raggiungere il massimo livello di spesa. Un concetto sottolineato anche dal presidente della regione Francesco Roberti, con lui presenti anche l'assessore di Lucente e il consigliere di Baggio, esponenti di Forza Italia Palazzo da Immo. Ci sono i fondi europei per il Molise, ci sono anche dei fondi strutturali che fondamentalmente sono importanti cantierarli al più presto e quindi faranno in modo che questi fondi potranno consentire il rilancio sociale ed economico di una piccola regione come la nostra. Ma bisogna anche tener conto di tutte quelle iniziative che metteremo in campo grazie ai nostri parlamentari europei e i loro suggerimenti per poter, come dire, in qualche maniera andare a conquistarci ulteriori fondi europei perché d'altra parte è una competizione tra regioni cercare di riuscire a catalizzare questi fondi e quindi noi, grazie anche al loro aiuto, cerchiamo di fare il nostro dovere. Elislein a Campobasso sabato prossimo e questa è la notizia data dai dirigenti del Partito Democratico che hanno preso parte alla presentazione a Campobasso della lista del PD collegata alla candidata sindaca Maria Luisa Forte. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Architrave della coalizione progressista, il Partito Democratico ha presentato oggi la lista dei propri candidati al Consiglio Comunale del Capoluogo. È stato proprio il PD a premere l'acceleratore a febbraio quando, invertendo la tendenza a procrastinare che tanto danno ha fatto alle scorse regionali, ha invece dato una spinta vigorosa verso la scelta del candidato sindaco di Campobasso, anzi della candidata sindaca Maria Luisa Forte. A ricordarlo è il fresco segretario del PD Ovidio Bontempo che annuncia l'arrivo a Campobasso sabato prossimo alle 20 della segretaria nazionale Elislein. Questo è stato frutto di un lavoro straordinario che già da diversi mesi ha trovato il punto di equilibrio nella figura di Maria Luisa Forte. Già da febbraio, ed è un elemento inedito importante, siamo riusciti a trovare una convergenza insieme al Movimento 5 Stelle e alle altre forze progressiste su questa figura che secondo noi appresenta la proposta giusta in termini di qualità e di rappresentanza per il centro-sinistra e per la città di Campobasso. La lista è di grande qualità, è una lista forte che rappresenta anche l'unità di tutto il Partito Democratico. Questa lista troverà l'apoteosi, il momento più bello, ecco se vogliamo, sabato prossimo con l'arrivo della nostra segretaria nazionale Elislein qui a Campobasso. Maria Luisa Forte parla con soddisfazione e fiducia della campagna elettorale in corso e della buona risposta dei cittadini. Grandi aspettative per l'apporto del PD. Anche da lei arriva il benvenuto ad Elislein che arriverà sabato a Campobasso proprio a sostegno della sua candidatura. Ci spostiamo adesso a Termoli dove c'è stata l'inaugurazione della sede elettorale della Lega. Molti partecipanti già al taglio del nastro tra candidati e cittadini. Presenti oltre al candidato sindaco Nico Balice anche l'assessore regionale, nonché commissario regionale della Lega, l'avvocato Michele Marone e il segretario regionale dell'Udc Teresio Di Pietro. Sentiamo Dalila Catenaro. Inaugurazione della sede elettorale della Lega in via Cairoli a Termoli, lista che sostiene il candidato sindaco Nico Balice. Presente anche Teresio Di Pietro, il segretario regionale dell'Udc, il cui partito ha sposato gli stessi obiettivi della Lega. Presente anche l'assessore regionale, nonché commissario regionale della Lega in Molise, Michele Marone. Molta la presenza nella nuova sede elettorale tra candidati e cittadini, che sin dal taglio del nastro hanno partecipato e successivamente hanno assistito alla cerimonia d'inaugurazione. L'assessore Marone ha ricordato che la lista è competitiva e sono pronti a scendere in campo, ma di ricordare anche l'importanza delle prossime elezioni europee che si voteranno in tandem con le amministrative il prossimo 8 e 9 giugno. È una lista decisamente competitiva, peraltro con un numero significativo di donne e quindi siamo pronti a giocarcela sul territorio e sicuramente faremo un ottimo risultato. In continuità con il sindaco uscente che è diventato presidente della regione e quindi una casella che toccava a Forza Italia e così è stata l'espressione di Forza Italia. La Lega è coerente con la coalizione di centrodestra per cui siamo fortemente a sostegno di questo candidato sindaco, dell'avvocato Nico Balice e andiamo a vincere queste elezioni per tornare a governare Termoli e renderla sempre più bella e accogliente. Torniamo adesso a Campobasso dove c'è stato un confronto tra candidati alla carica di sindaco. Questa volta l'invito è arrivato dai docenti e dal personale dell'istituto comprensivo Dovidio, una scuola che sarà oggetto di una radicale ricostruzione e che cerca risposte sulla soluzione ponte per gli alunni. Al centro del dibattito l'osteggiato progetto di ubicazione di una scuola in località Selvapiana non sono mancati i colpi di scena e gli annunci. Sentiamo Stefano Ricci. Genitori, docenti e personale dell'istituto Dovidio in cerca di chiarezza sul futuro della scuola. Per questo l'invito è un contraddittorio con i candidati al posto di primo cittadino. Il candidato per il centrodestra De Benedittis non c'è ma tutti d'accordo almeno su due punti. Il primo, vietato perdere il finanziamento di 21 milioni per un edificio ex novo e garantire per il periodo di transizione una soluzione sicura per gli alunni. Un dibattito a tratti acceso, quello tra Maria Luisa Forte e Pino Ruta, non senza colpi di scena. La forte erede politica dell'amministrazione uscente annuncia che la scuola dell'infanzia da settembre tornerà nelle sue storiche sedi. Quanto alla soluzione di sistemare con 3 milioni e mezzo di euro una scuola ponte in località Selvapiana per il resto dell'istituto ad oltre 4 chilometri dal centro, pur lamentando un bando già deserto per reperire immobili, annuncia la volontà di un nuovo bando sperando di evitare una soluzione che a scuola hanno accolto tutti come uno spauracchio. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, l'ho detto, torneranno nelle sedi da dove sono uscite, quindi in via Iezza, in via Berlinguer. Quindi l'infanzia è al sicuro e cominceranno le lezioni regolarmente, il primo settembre 24, c'è già un contratto di locazione per ben tre anni. Per quanto riguarda primaria e scuola di primo grado faremo un nuovo bando, soltanto se questo nuovo bando andrà deserto penseremo alla soluzione di Selvapiana. Possiamo anche pensare alla primaria al centro, al primo grado a Selvapiana, a seconda delle disponibilità che troveremo con il nuovo bando. Ma su una cosa voglio essere sicura e voglio rassicurare tutti. Sicuramente nessun bambino, nessun ragazzo uscirà da questa scuola se non sarà pronta una soluzione idonea. Colpo di scena anche quello del candidato Ruta, che porta un'offerta di locali per 2.500 metri quadrati nella centralissima città, nella città, e accusa l'amministrazione uscente di immobilismo. Il bando per la reperibilità di immobili, peraltro localizzato su altri immobili di Via D'Amato, è stato fatto a giugno del 2023, ma l'atto unilaterale d'obbligo, cioè quello che consacrava la consapevolezza dell'amministrazione di procedere alla demolizione di questo istituto, è del 2021 e 2022. Quindi l'amministrazione è stata 18 mesi ferma. Trovare una soluzione per un attrezzatore di quartiere a 4 km dal quartiere a Selvapiana è una cosa abbastanza eretica. Non è neppure una scelta politica, perché c'è un DM che disciplina tecnicamente dove devono essere reperite le attrezzature di quartiere, che si chiama il cosiddetto raggio di influenza per le strutture di prossimità. Sono infrastrutture urbanistiche di carattere localizzabile, all'interno del perimetro devono essere facilmente raggiungibili dagli alunni e dalle famiglie, per cui andare a 4 km e costringere 600 famiglie a viaggiare 16 km al giorno, trovando chiaramente accrescendo anche il livello di traffico, di inquinamento e anche di spesa dell'ente. Puoi immaginare che il caos crea in una città che già così piccola ha tantissimo traffico. L'ufficio scolastico regionale con una nota ufficiale ha smentito la notizia della soppressione della Direzione Generale dei Servizi Amministrativi dell'Istituto Jovine di Campobasso. Si tratta di una fake news, ha detto senza mezzi termini la dirigente Maria Chimisso, rispondendo alle polemiche e alle dichiarazioni dell'assessore comunale uscente Luca Praetano e del sindacalista della CGL Pino La Fratta. Il servizio. Sono bastate poche ore la polemica divampata a Campobasso. La nota dell'assessore candidato alle comunali con il Movimento 5 Stelle Luca Praetano ha fatto da amplificatore diffondendo la notizia che, con provvedimento firmato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale Maria Chimisso, era stata soppressa la Direzione Generale dei Servizi Amministrativi dell'Istituto Jovine di Campobasso. Notizia poi smentita dalla stessa Chimisso. Intanto Praetano aveva commentato dicendo che in questo modo si sopprime l'autonomia di uno storico istituto della città. A stretto giro anche il comunicato del segretario della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL Molise Pino La Fratta, il quale aveva rimarcato testualmente che appare evidente che tale provvedimento possa essere considerato un anticipo di dimensionamento. Peccato però che la competenza a decidere in materia aveva continuato il sindacalista e della Regione. A memoria di chi vive la scuola in Molise, aveva rincarato Praetano, mai un dirigente dell'ufficio scolastico regionale è entrato così a gamba tesa sull'aspetto organizzativo della scuola. Non si è fatta dunque attendere la replica di Maria Chimisso che ha parlato senza mezzi termini di notizie errate e prive di fondamento, diffuse attraverso i social e riprese da alcuni organi di stampa su una presunta perdita dell'autonomia scolastica della Iovine che, ha ribadito, non è stata toccata. La scuola avrà un suo dirigente e un suo direttore servizi generali amministrativi in regenza. Si è data in questo modo attuazione e ha continuato alla norma che limita a 49 il numero di autonomie scolastiche in Molise, così come previsto dalla direttiva ministeriale. L'Istituto Iovine dunque, ha rimarcato Chimisso, manterrà sia l'autonomia sia il codice identificativo, conservando il diritto a una sua organizzazione indipendente. Si ricorda che la soppressione di autonomie scolastiche è di competenza esclusiva della regione. Ogni altra interpretazione in merito è da considerarsi una fake news. Il principio della reggenza alla Iovine, che non vuol dire perdita dell'autonomia scolastica, ha concluso la dirigente, è stato stabilito seguendo una logica di tutela delle scuole posizionate in aree interne e disagiate, così come da linee e guida regionali. Passa maggioranza in consiglio regionale il rendiconto finanziario 2020. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti e dalla Corte Costituzionale. Soddisfatto l'assessore Cefaratti, critiche invece dalle opposizioni che hanno parlato di pasticcio. Sentiamo ancora una volta Pasquale Di Bello. Alla fine è passato con i soli voti della maggioranza, ma è passato, parliamo del rendiconto finanziario 2020 della regione molise. Poco dopo le 11 si è levata dal Consiglio regionale la fumata bianca che annunciava il lieto evento, perché di questo si tratta di una lieta novella vista la corsa ad ostacoli che fanno da mesi i conti regionali. Il documento è stato approvato, anzi, riapprovato, dopo le osservazioni arrivate dalla Corte dei Conti e dalla Corte Costituzionale. La seduta si è aperta con le critiche dell'opposizione. La capogruppo in regione del PD, Alessandra Salvatore, ha parlato di pasticcio della maggioranza. Era un atto dovuto. La Corte dei Conti, sulla base peraltro delle sentenze della Corte Costituzionale, aveva dato delle indicazioni ben precise. Il rendiconto arriva tardi. Per fortuna è arrivato ovviamente. Il voto non poteva che essere contrario rispetto ad un pasticcio della maggioranza. In aula ho citato il proverbio, chi rompe paga i cocci sono i suoi. In questo caso la maggioranza di centrodestra ha rimediato ad un pasticcio creato dalla maggioranza di centrodestra, quasi la stessa, tranne qualche eccezione. I cocci sono per adesso dei molisani, perché l'attività della regione molise e l'azione amministrativa è rimasta paralizzata per anni, sono passati quattro anni. Speriamo ovviamente che da qui al futuro invece si cambi registro e ci sia un coinvolgimento maggiore del Consiglio e delle minoranze che sanno dare anche un contributo di tipo propositivo oltre che di tipo critico e oppositivo. Soddisfatto invece l'assessore al bilancio Gianluca Cefaratti, che si toglie anche una pietra dalla scarpa, la responsabilità dei conti malati e, dice, dell'amministrazione regionale di centro-sinistra. Oggi riapproviamo il rendiconto 2020 con quelle correzioni formali che ci sono state chieste dalla Corte dei Conti, ci sono state in qualche maniera certificate dalle sentenze della Corte Costituzionale dello scorso marzo e dello scorso aprile. Sono contento di questo processo, speriamo che gli ulteriori passi che dovremo fare nelle prossime settimane siano altrettanto rapidi perché davvero abbiamo la necessità di rimettere a posto questa filiera istituzionale. Sono convinto che grazie all'azione Impulso che eserciteremo attraverso la Giunta, all'azione concreta della Commissione, ma consentitevi di dire anche all'azione tempestiva dell'intero Consiglio che non sta facendo opposizione, faremo quei passi necessari per garantire alla Regione Molise gli atti di bilancio così come ci sono stati chiesti ma che sapevamo in qualche maniera avessero necessità di questi correttivi. Siamo convinti che abbiamo necessità per il bilancio in senso generale della Regione Molise di un'ulteriore spinta da parte del Governo centrale, all'Aggiunto in particolar modo, a me, al Presidente, insomma dobbiamo chiedere questo ulteriore sforzo per far sì che il bilancio della Regione Molise possa essere migliore di quello degli anni precedenti. Voglio solamente sottolineare una cosa, che quando si dice che insomma gli errori sono stati fatti al centro-destra, voglio ribadire che questa situazione nasce purtroppo dal 2015, quando sicuramente non c'era un governo in centro-destra alla guida della Regione, perché nel 2015, quando è andato in vigore il 118, alcune partite che dovevano essere cancellate, soprattutto tra i residui attivi, non sono state cancellate, per cui questo fardello si è portato avanti nei tempi, per cui sentire ancora che qualcuno della minoranza vanna e imputa questa maggioranza di centro-destra, anche la passata maggioranza, alcune colpe francamente non corrispondevano e voglio pubblicamente dirlo ancora una volta. Intanto è previsto per domani l'atteso giudizio di parifica della Corte dei Conti. In occasione della giornata mondiale della biodiversità domani, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, pone l'accento sulla necessità di completare la perimetrazione del Parco Nazionale del Matese. Come Movimento 5 Stelle ha detto, non ci limiteremo a chiedere ai rappresentanti della maggioranza di centro-destra al governo nella nostra Regione di porre in essere azioni concrete per risolvere la situazione che si è venuta a creare, ma ha continuato gravina, riteniamo sia necessario presentare, come faremo in accordo con l'onorevole 5 Stelle e Ilaria Fontana, un'interrogazione parlamentare per chiedere direttamente al governo Meloni cosa si stia facendo e cosa si ha intenzione di fare per tutelare la biodiversità nel Matese. Un cervo maschio di grossa taglia è caduto da un dirupo su un tetto di un negozio a Cerro a Volturno. Questa mattina l'intervento di rimozione della carcassa tra l'incredulità dell'agente del paese. In quel momento nell'attività c'erano alcune persone che hanno creduto si trattasse di una frana. Sentiamo Davide Gambardella che è stato sul posto. Ha finito la sua corsa precipitando rovinosamente sul tetto di un negozio di parrocchieri, scivolato da un costone probabilmente per sfuggire all'attacco di un branco di lupi. Sarebbe questo il motivo per cui un grosso cervo si sarebbe spinto sul punto più insidioso di una rupe che affaccia su via Roma, strada all'ingresso di Cerro a Volturno, nel centro abitato del comune in provincia di Sernia. Episodi che non accadono di lato nei paesi alle porte del parco nazionale. Ma mai un cervo è finito per piombare su un tetto, spaventando chi in quell'attività ha temuto per un attimo di essere finito sotto una frana. Abbiamo sentito il botto e poi si è continuato a muovere per un po' e poi si è fermato. Poi lei e mia figlia è andata sopra dopo un'oretta, un'oretta e mezza così, però era morto. Cioè lei era all'interno quando è caduto il cervo? Sì, abbiamo avuto paura perché pensavamo che erano le pietre e quindi siamo uscite un po' fuori però poi avevamo paura, dico se solo le pietre ci vengono in destra e ci siamo fermati un po' là. La caduta dell'animale si è verificata ieri sera poco dopo le 10. Quando il cervo è precipitato sul tetto, nella parruccheria c'erano ancora la proprietaria e sua madre che stavano servendo l'ultima cliente. Abbiamo sentito un forte botto e siamo usciti a vedere, pensavamo fossero delle pietre invece in realtà era un grosso cervo purtroppo. Paura no, neanche in realtà, però comunque pensavamo che appunto venissero prima magari a rimuoverlo e a controllare anche, però purtroppo è successo solamente oggi. Il ritiro della carcassa del povero animale è avvenuto soltanto stamattina, quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Sernia sono dovuti intervenire con una gru per rimuovere l'ungolato di grossa stazza. Gli esami dell'istituto zooprofilattico di Sernia scioglieranno gli ultimi dubbi. Intanto sulla carcassa erano ben visibili alcuni segni che potrebbero essere riconducibili all'attacco di un predatore. Lei i cervi qui li ha mai visti? Sì, qua ce ne sono tanti, sì. E non so se è stato azzannato anche da un lupo, perché sembra che al collo c'ha un po' delle ferite. È scappato e forse ha trovato il pericolo e è cascato giù. Non si escludono nuove proteste da parte della Polizia Municipale a Sernia contro il mancato riconoscimento dell'autonomia del corpo. Dopo l'assemblea che si è svolta durante i festeggiamenti per San Pietro Celestino, ieri il sindacato CSA che rappresenta gli agenti Sernini ha annunciato altre forme di protesta nel pieno rispetto del diritto allo sciopero che interesseranno i maggiori eventi in programma nel capoluogo di provincia. Intanto il segretario generale del sindacato Ettore Cibelli attende la convocazione del prefetto Tancredi. Stavolta ci aspettiamo che il sindaco Castrataro presenti un atto in cui venga riconosciuta l'autonomia e meno chiacchiere ha affermato Cibelli. Una chat basata sull'intelligenza artificiale ma con una voce umana e tanti pensieri letterari che valorizzano la lingua italiana per di più con la collaborazione dell'Accademia della Crusca. L'hanno chiamata Galileo IA e il nuovo progetto degli alunni dell'Istituto Tecnico Marconi di Campobasso che è stato presentato oggi. Sentiamo ancora Stefano Ricci. E pensare che mi credevano un eretico. La voce viene dal latino sterlaforma sincopata per sterula. Il significato proprio di stella è il nome dato dagli antichi a tutti i corpi celesti luminosi. Galileo IA è un chat bot molto simile ai nostri assistenti vocali che conosciamo come Alexa, Siri, però appunto ci abbiamo aggiunto tre elementi che sono l'intelligenza artificiale, il modello 3D e la voce naturale. Quindi in sostanza abbiamo un software che può essere utilizzato semplicemente tramite il browser e ci permette di interagire dialogando con la mente di Galileo. Un progetto che è un omaggio all'inventore del linguaggio scientifico e al futuro che ci aspetta. Gli alunni del Marconi di Campobasso l'hanno rifatto e dopo Dandroid, il sommo poeta che interagisce portando nel mondo dei versi più celebri, quelli della Divina Commedia, ora arriva il glossario dei termini scientifici che grazie all'intelligenza artificiale prende vita. Ma il vero contributo resta sempre quello dell'intelligenza sì, ma umana. Quanto è stata più artificiale l'intelligenza o umana nella percentuale di partecipazione a quest'esito del progetto? Beh diciamo che siamo su un 50 e 50 perché ovviamente ci affidiamo al computer però la banca dati diciamo è appunto qualcosa di umano. È programmata dall'uomo e serve l'uomo quindi il fattore umano è assolutamente indispensabile e chiaramente perché uno possa creare qualcosa bisogna che sappia cosa deve creare e in che modo appunto crearla. Ecco un progetto del genere come questo del glossario su Galileo è un po' appunto un approccio scientifico alla lingua e siamo perfettamente come dire in linea anche con il luogo in cui ci troviamo perché loro poi alla fine studiano l'applicazione della scienza alla realtà, no? Quello che poi è, che dà come risultati tra i tanti l'intelligenza artificiale. Per l'Accademia della Crusca autorevole supervisione del progetto un grande sforzo per ragazzi impegnati nell'ambito tecnico e scientifico che si sono cimentati con l'elemento imprescindibile per ogni scienza, conoscere il proprio idioma. Senza la lingua non esiste conoscenza perché io non avrei modo neanche di parlare appunto della nuova tecnologia e delle nuove scoperte quindi veramente questo lavoro che hanno fatto i ragazzi sul glossario Galileano penso che sia come un filo rosso che unisce la comunicazione verbale e la comunicazione tecnica, tecnologica. Aristide Ferrara è il nuovo responsabile dell'unità di chirurgia oncologica epatobiliare afferente al Dipartimento di Oncologia al Responsible di Campobasso lavorerà in strettissima sinergia con l'unità operativa complessa di chirurgia generale ed oncologica diretta da Lorenzo Iovine ampliando ulteriormente l'offerta sanitaria del Responsible anche su nuovi ambiti come la cura del tumore del rene. Ferrara, che vedete in questa foto, vanta una lunga esperienza in chirurgia generale sia con tecnica tradizionale sia laparoscopica ha anche impegnato, è stato anche impegnato in qualità di primo operatore nell'effettuare trapianti di fegato e trapianti di rene. In occasione della giornata mondiale delle api Miele in cooperativa ha organizzato alla Torre Vinaria della Cantina Frentana Rocca San Giovanni un convegno per evidenziare il connubio indissolubile che esiste tra api, apicoltori e ambiente. Francesca Danversa. Senza le api è a rischio la biodiversità del nostro pianeta ma senza apicoltori le api non si salveranno. Questo è il tema del convegno organizzato da Miele in cooperativa alla presenza di produttori, istituzioni e studenti. Il lavoro di questi insetti quasi impercettibili garantisce la produzione di circa il 75% del cibo del mondo ma è un settore, quello dell'apicoltura, messo a dura prova dall'uso eccessivo di pesticidi, parassiti, malattie, cambiamenti climatici e inquinamento ambientale. A rischio non è solo la sopravvivenza delle api ma anche la sostenibilità agricola e ambientale. Bisogna salvare le api ma per salvare le api bisogna salvare prima gli apicoltori. Senza gli apicoltori le api non si salvano. Questo è il nostro messaggio di oggi e l'altro grande messaggio è che lo possiamo fare con l'aiuto dei consumatori. Ai consumatori noi oggi ci rivolgiamo e gli chiediamo di fare un consumo e una scelta consapevole nell'acquisto di prodotti sicuri, salubri e di qualità che ovviamente hanno un costo superiore a quelli che invece non danno certezze né in sicurezza ambientale né in sicurezza alimentare e nemmeno in etica sociale. Leggete l'etichetta, trovate la scritta miele italiano e soprattutto individuate chi lo ha prodotto e scegliete i produttori locali. E proprio riguardo all'etichettatura, poche settimane fa il Parlamento europeo ha adottato formalmente le norme aggiornate che riguardano composizione, denominazione, etichettature e presentazione di alcuni prodotti alimentari, le cosiddette direttive colazione. Tra queste la revisione più importante riguarda proprio il miele. Continuare a sostenere con forza questo settore che è strategico per garantire chiaramente la nostra biodiversità ma per essere vicini alle aziende che fanno un lavoro straordinario garantire chiaramente un'attivazione di maggiori controlli per evitare che ci siano introduzioni di miele provenienti da paesi extra oe di bassissima qualità e a prezzi stracciati. E adesso parliamo di TV perché in questi giorni è in onda su Prime la nuova stagione del reality Celebrity Hunted. La puntata finale è stata girata in Molise tra Campobasso, Termoli e Campomarino. Enzo Luongo. Il Molise è protagonista della puntata finale della nuova stagione del popolare reality show Celebrity Hunted. La quarta stagione in onda proprio in questi giorni su Prime. I ricercati, concorrenti famosi che partecipano da soli o in coppia, devono scappare in tutta Italia per 14 giorni con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelievo di un massimo di 70 euro al giorno. Mentre sono abbraccati dai cosiddetti cacciatori, un team di professionisti del settore investigativo organizzati in squadre operative. La sesta e ultima puntata della nuova stagione è stata quasi interamente girata in regione. La squadra, composta da Belen Rodriguez e da sua sorella Cecilia, si è nascosta tra Termoli e Campomarino. Allora, ci servirebbe un passaggio per arrivare all'inizio del lungomare di Termoli. L'altra squadra in campo è composta dall'attrice e conduttrice televisiva Brenda Lodigiani e dall'attore comico molisano Herbert Ballerina, che dalla Campania decide di rifugiarsi nella sua Campobasso, dove chiede aiuto all'amico Pippo Venditti. Pippo, non lo so che dirai, sono Herbert Ballerina. Pippo è un amico, ovviamente a Campobasso ci conosciamo tutti e quindi conosco anche lui. Stai facendo le facce? No. Tra gli altri personaggi noti, i protagonisti di questa edizione, ci sono Raul Bova e il rapper Guechepegno. Tra i partecipanti delle edizioni passate è anche Claudio Santamaria e Lodi, i due protagonisti di Gomorra, Marco D'Amore e Salvatore Esposito, Fedez e Francesco Totti, Stefano Accorsi, Rama e Luca Argentero. Il Montepremi in palio per i vincitori è stato suddiviso tra associazioni di volontariato scelte dai ricercati. Vale? Sì? Ciao, sono Brenda Lodigiani, ti ricordi? E tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.